ahahah ragazzi un po' il giallo di questo secondo video la 50 nuoviti il futuro del secondo episodio togli un cazzo spero di farla punta e basta me non avevo perchè mi sono veramente rotti coglioni di stare a cercarle l'obbio sempre booster gente che busta che mi stanno sul cazzo dal primo all'ultimo speriamo che vogliono le mamme a tutti anche se state guardando il video vi moriranno le mamme male arrotate da un cane inti poof e fai la first first lady first lady and first kill and first shot out first shot down shut it down anio go sono solo che sia visita tutti perché se non mi uccide con le armi giustamente perchè ricognizione uovo pro che è morto uovo erai puttana puttana non so lo franco 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 perchè perchè corro mentre chiamo l'uob ritardato di un cane di un lebroso non so lo franco no non puoi chiamarmi ieri contro quando io sto facendo le streak non so se non mi uccido io me ne vado pericolo pericolo bravo l'uore cioè ma io sto facendo il cretino quando faccio il filforo mamma mia ma a me chi me l'ha data la patente di guida ma patte 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 in live mmm quella buona della flasa eh quella buona quella buona madonna se faccio mille e tre se facevo triple kill madonna tiravo sul cristo attenti muove un nemico individuato efta la partita con un bel quad fidino nel mezzo e fai join che forse la vinci testa di cazzo no vabbè c'è mi viene da ridere invece da sclerore invece che da sclerore io ti invito voglio provare questa tecnica no 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 cioè io mi arrendo eh perché dopo aver fatto un quad fid in live con con no cioè io tiro il joystick lui è uscito lo ha invitato avete sentito il rumore lui è uscito io entro e ancora server pieno quindi ne rinvito un altro io ne faccio uscire un altro vieni forse spuma tocca a te vieni oppure vieni anche te super marmotta dai venite super marmotta snipe dm andiamo esce un po' ci sono trucchetti che voi non dovreste utilizzare per la vostra incolumità super marmotta ecco vedi quando esce la gente te fai join non voglio un cazzo da te io voglio andarmene voglio tornare nella partita server piano allora che avevo la mamma troia vabbè si è pure impallato quindi nonostante i ripetuti tentativi di cercare di invitare le persone per farlo uscire da partita e tanto non mi faranno farmare mai far fare join che cazzo di venguebo non mi fanno fare join dopo che io abbandono la partita mentre faccio un quattro di live e non posso fare la 59 kg perché tanto è impossibile cioè o trovo la gente che busta e tutte le volte mi incurano e mi ammazzano o se no faccio come stavolta che ce la faccio a farla ora c'è un posto entro e tutte le volte che arrivo a farla mi non mi fa entrare server piano testimoni voi lo vedete punto e basta quindi se vi è piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi ci vediamo alla prossima bella bella